Mi piacerebbe chiudere la nostra intervista con una domanda che facciamo sempre, la rubrica dei dischi da Isola Deserta, di solito chiediamo ai nostri ospiti 5 dischi magari da consigliare anche ai nostri amici, dischi che sono stati comunque formativi, che ti hanno appassionato, non lo so. Sì, certo, ce ne sono tantissimi, dovendoli mettere in ordine non tanto di importanza, almeno tra i 5, però sicuramente a me piace molto la musica italiana, piace molto il pop, vengo molto da quella scuola e ho studiato anche con i grandi del pop come Melotti, Golino, Molinari, quindi sono molto sicuramente appassionato e attratto da quel genere di musica. Uno dei dischi più importanti che in quel filone io abbia mai ascoltato è il live al Cremlino di Zucchero, dell'89 per esempio, che tra l'altro ha una sonorità pop che non è più quella di oggi fondamentalmente e anche perché poi lo stesso Lele Melotti mi spiegava come essendo in un periodo storico un po' problematico dal punto di vista dei conflitti, adesso non entro nel merito, quando passarono i tir con la strumentazione non fecero entrare in Russia il mixer, il camion con il mixer, adesso la racconto un po' vagamente così, però la morale è che dovessero registrare il live con dei canali, con un mixer e non poterono registrare separatamente, quindi risulta in questo disco una batteria che è quasi sopra il livello della voce, cosa che per esempio oggi non è più, con un suono micidiale, bellissimo e lì c'è proprio l'ABC della batteria, delle Melotti insomma in una forma strepitosa, è proprio l'essenza del groove, che è quella cosa che a me piace fondamentalmente ascoltare da un batterista. Questo così come un altro disco molto molto bello in questo senso è un disco di Raff, che si chiama Collezione Temporanea, dove c'è Alfredo Golino, che anche lì è una biblioteca di groove, di feel, veramente molto molto bello. Big Swing Face ovviamente di Buddy Rich, è un disco che ho mangiato proprio pane e colazione, così come Made in Japan ovviamente, non ho un genere così, mi piace suonare tanti generi specifico, per cui posso un disco dall'estremo jazz all'estremo pop, adoro l'hip hop, mi ascolto delle grand compilation dove c'è la batteria che è sempre lì, vorrei fare un concerto di due ore suonando solo il tempo.